Mister, le ultime quattro vettorie consecutive risalgono alla stagione 2014-2015, se può valere qualcosa? Ti ringrazio di questa statistica, non lo sapevo, ma noi abbiamo un compito, quello di fare una partita alla volta e quindi oggi sapevo che era una partita difficile, faccio rinnovo i complimenti all'allenatore del Bisceglie che è una persona seria, persona preparatissima, che fa giocare bene le squadre, sapevo che era molto difficile per questo motivo e molto camaleontico e quindi sapevamo che per noi era molto difficile trovare anche gli appoggi e anche le nostre uscite, le nostre scalate la squadra ha fatto un grandissimo sforzo oggi ad avere pazienza e credo che abbia vinto meritatamente e questa è una cosa molto importante secondo me dal punto di vista dell'equilibrio Mister, io provo a dire una cosa che magari col calcio ci anterrà relativamente ma la cosa che più mi è piaciuta di questo Teramo oggi è stato aver visto 4-5 giocatori in pressing nella metà campo avversaria a 4 minuti dalla fine Ma è un po' il nostro motivo ricorrente del lavoro, lavorare delle volte non basta però se non ci lavoriamo neanche siamo proprio veramente raso terra quindi ho sempre detto che questo gruppo qua lavorava bene in questo momento abbiamo fatto queste vittorie che ci consentono di fare un buon respiro però io sono fatto così, non mi accontento mai e quindi non c'è niente di meglio di vincere di mettere a posto qualcosa perché come sempre nelle partite qualcosa di non positivo abbiamo fatto però devo fare davvero i complimenti a questi ragazzi qua perché perseguono la lettera a quello che gli chiedo e quindi ne sono molto soddisfatto Mister, lei alla vigilia aveva parlato di una gara difficilissima e così è stato poi sul campo Beh ma basta guardare anche gli altri risultati, noi delle volte ci soffermiamo perché siamo pseudo tifosi o pseudo teramo, dobbiamo vedere anche le altre squadre che propongono questi qui hanno pareggiato a Catania è una squadra comunque difficile perché è camaleontica, cambia sistema di gioco spesso ha dei giocatori comunque determinanti quindi per noi era un test difficile perché se uno viene qui in punta di piedi o comunque in maniera superficiale questa partita non la vinci e come non la vinci le altre? Noi dobbiamo avere questo tipo di atteggiamento volitivo cercare di portare ancora di più gioco con più fluidità se riusciamo, se riusciremo e dopo riuscire a fare anche di necessità virtù quando non ci riusciremo Bene, Minister, anzi benissimo in quei 10 minuti e quarto d'ora di grande intensità nel primo tempo che hanno portato anche al gol fin qui abbiamo parlato di elogi cosa invece se vogliamo andare a cercare il pelo nell'uovo ti è piaciuto meno? No, oggi sinceramente niente perché oggi siamo stati bene in campo abbiamo rischiato poco la squadra è stata molto equilibrata rispetto all'ultima prestazione ha avuto la doppia fase migliore il pelo nell'uovo essendo rompicoglioni di natura dovevamo magari chiuderla con le 4-5 occasioni che ci siamo creati però questo sarebbe troppo la squadra ha fatto veramente molto bene sul piano veramente della squadra cioè di equilibrio quindi di questo sono molto soddisfatto è un risultato che fa contento tutti, noi Mister, in conferenza ha chiesto solidità difensiva progresso mentale e qualche tifoso in più allo stadio può ritenersi soddisfatto? Noi siamo molto soddisfatti della gente che ci vuole bene e che ci segue poi abbiamo uno di fronte che è Massimo che è con noi, è uno di noi e sa quello che stiamo facendo e quelli che hanno voglia di conoscerci noi siamo convinti di poterli ripagare Ma quando ho menzionato il campionato 14-15 sbaglio è arrivato un piccolo sorriso da parte sua? No, il sorriso viene perché quando vinci magari sei un pochino più sereno però sono già concentrato alla partita di Coppa Italia perché anche lì dovremmo fare il nostro lavoro il nostro impegno abbiamo Piacentini squalificato abbiamo solo un terzino sinistro e quindi siamo un po' in difficoltà e dovremmo già trovare delle soluzioni pronte per mercoledì Mister, abbiamo scritto male del Teramo quando le cose non andavano e ci chiedevamo la squadra di Tedina Memoria dov'è? Oggi devo dirle che in tribuna ci siamo detti questa è la squadra di Tedina No, siamo ancora un po' distanti ma lo sappiamo tutti Siamo distanti? Siamo un po' distanti ma perché so quello che possono fare questi ragazzi perché li vedo durante la settimana quindi ancora c'è da fare e sono convinto che faremo ancora di più Viero aveva problemi fisici? Chi scusi? Viero Viero ha una distorsione tibiotarsica alla caviglia